ciao a tutti amici collezionisti iscritti scusatevi ragazzi lo so lo so volevo registrare sul mio computer ma ormai purtroppo registro sul mio computer solo per questa volta per questa occasione perché il mio computer è da riparare oggi recensiremo l'album di figurine completo dei cartoni animati e le patatine san caro yuno stessa gruttine la nuova serie di turbo racing in ogni confessione una macchina cine città world il pato di cinema della tv è da tanti anni che non registro gli schermi lo sai allora prova l'ebrezza del gran premio con le fantastiche macchine turbo racing sfida i tuoi amici collezionari tutte e otto le macchine sono rosso giallo verde blu e le stesse diverse caratteristiche e colori ma non lo collezionerò la serie peccato che i power play non ci sono si trova in alcuni supermercati ma vi prometto che troverò anche masco guardate abbiamo trovato una macchinina blu prodotte dalla lemorgan si prodotto da studio pro star abbiamo trovato una macchina blu con 958 e morgan bianno Bergamo di morgan le prodotti news e rosine san carlo junior san carlo juneor il regalo le mani liberi e morgan da un tenuto cinque scherzo naturalmente e adesso vediamo l'album di figurine completo dei cartoni animati dove troviamo Tutti i cartoni animati perché lo sapevi io sono un esperto di cartoni animati E qua troveremo i personaggi dei cartoni animati Allora costa 3 euro e 50 e la collezione il periodo di instale Vediamo qua questo album di nome e cognome Qua c'è Calimero, Erimo Striciattoli, Angry Birds, Spirit e qua tanti altri c'è Dolce Remi che fa schifo, Peppa Pig, Goldrake e qua troveremo Aspetta, questa è una grande storia, fan di Peppa Pig, Mashaozo non sanno neanche chi sono Ma Goldrake, Mycica, tutti gli altri L'infanzia è un paradiso dove tutto è possibile come andare sulla luna e poi tornare la sera del proprio lettino I cartoni sono nati negli anni 70, 80, 60 Qua non c'erano i cartoni animati Anna Barbera Poi sono arrivati gli anime Poi guarda, allora tutti i cartoni La Sirenetta Ariel Cerenettola, Pocahontas, Biancanevese Tenani Questi anche i film di animazione Sfida la principessa Chi è sfida la principessa? La bella labessa Shemi, Brave E qua non c'è il mitico Spongebob purtroppo Qua abbiamo Cattoperdori, Micei Frozen Elena Pialvador Il principe di Egitto Aladdin di Kantè Il principe di Egitto Ma perché? Anastasia, Frozen La bella addormentata del bosco Nazooka nella Valle del Vento Ma non lo conosco La bella addormentata del bosco So, Barbie Cogliona Policino Sissi la giovane imperatrice E poi abbiamo anche i supereroi Marvel Abbiamo Spider-Man Capitano America Batman Wonder Woman Power Ranger I Power Ranger Le superchicche Gli incredibili Thor Davut Davut Le superchicche, sì Anche il nome italiano Hulk Le superchicche Con la nuova versione Dei Tepave Fargo No Chiamamole superchicche Chiamamole superchicche Ok Le superchicche No le Tepave Fargo Incredibili Mice fantastiche Bravo che hanno chiamato Androck Dare Dare Tita Sgo Farò la recensione giovedì Su Tessi Grone Shove Iron Man Sì Farò la recensione Prossimamente Farò Prossimamente Farò la recensione Di Shemenshine Wins Club Maestro Poi Maestro 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 Non lo farò La recensione Che fa schifo Maestro 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 Ci sono Le Wins Club Farò la recensione Delle Wins Di Shemenshine Lo farò Ovviamente Regala Casini Lo farò La recensione Anche se Questa È una parente Della stregaccia Vampirina L'ho già Recensita Il Pote Il piccolo Ognodì Beneoli Lo recensirò Su Tessilone Show Vestate Lo vedrete All'opera Della recensione Di Beneoli Nella La principessa Negra Mi Farò La recensione Su Tessilone Show Prossimamente I Trolls L'ho già Recensito Harry Musticiatri Fa schifo Cocco E qua Poi Poi Dopo Poi Poi farò La recensione Di cartone Voi Attaccherò Tutti i cartoni Animati Lo vedrete Nella prossima Episodio Purtroppo È per colpa Del mio Compiute Che è Scemo Qua abbiamo Tutti gli Adessi Vedi Questi cartoni Animati Sti qua Guarda il maialino Con Angry Tom e Jerry Guarda Tom e Jerry Sembra Quello di Blade 2 Super Joe Master Che ha Recessito Così Recessito Anch'io Super Joe Master Recessito Anch'io Abbiamo Inside Out Anche se Un film Anche Dopo Inside Out Il mio film Animato Preferito Adesso I miei film Animati Preferiti Da pizza Sono Inside Out Mi piace Molto Disgusto E Soul Barbie Dreamtopia Alice Magici Fa Schifo Oteta Dismania Uscirà Il quarto Capitolo A settembre Finalmente Lo guarderò Winnie Te Pu Lo recensirò Presto Pets Vita Animali Sì Seguite Il mio primo cartone Animato Preferito Prima di Spongebob Lo sapete Spongebob Non c'è La Pimpa Lo già recensita Peppa Pig Lo già recensito Il cartone Bambi L'era Graciale Vita La Giungla Lo recensirò Prossimamente Su Tessigone Show Angry Bors Dum Milano Dumbo 44 Gatti Lo già recensito Su Tessigone Show Alvin Che Masse Lo recensirò Nella seconda Stagione Tessigone Show e poi abbiamo ma non c'è Bob guarda non c'è Bob quella è una delle immagini di tesi grone show di Oghi Oghi e malediti scafasi già ricensito Ziggy e sciarco lo già ricensito Grelleone, Aristogatti Maite e il Pony lo ci inseriamo prossimamente e poi abbiamo anche i classici i grandi classici di abbiamo Papperino Topolino, Pinocchio Mary Pompis fa schifo ma lo attaccherò gli Unitoons lo ci inserirò prossimamente Tom e Jerry lo ci inserirò prossimamente Topolino, la fabbrica di cioccolato Pipicaccio e Ungher lo ci inserirò prossimamente Topolino, Snoopy e qua abbiamo dove sono finiti Tom e Jerry eccoli qua abbiamo il piccolo principe che fa schifo la serie animata bruttissima schifo, brutta serie dipinti questo qua Tom e Jerry bene Oli Tom e Jerry Sì lo ci inserirò prossimamente su Tessiglone Show Star Wars Calimè lo ci inserirò prossimamente su Tessiglone Show anche Heidi Iberba e Papaglia già le Cin City Semi Pompiare lo ci inserirò prossimamente su Tessiglone Show Prossimamente Dragon Ball Z Dragon Ball Z lo ci inserirò alla fine di Tessiglone Show Miraculous già recensito già recensito Kufu Panda prossimamente Gizzo Lego Ninjago e poi abbiamo per finire anche Justice League prossimamente lo ci inserirò Angry Danger fa schifo Doctor Strange si hanno fatto anche una serie di Angry Danger le Tartarughe Ninja prossimamente su Tessiglone Show guarda che sono vecchie le Tartarughe Ninja Zoro la leggenda fa schifo e Gormiti lo ci inserirò presto su Tessiglone Show e questa è la copertina va bene ragazzi abbiamo recensito due cose oggi è per colpa del computer va bene iscrivetevi al canale mettete più mi piace condividete commentate lasciatevi un like a questo video e vieni purtroppo è così ragazzi non possiamo farci niente e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti